un saluto a tutti gli amici di idm tv benvenuti alla quinta puntata della rubrica varie ed eventuali uno spazio che tratta di curiosità interessanti su argomenti di vario tipo io sono joey meglio conosciuto come reginaldo veterini come ben sappiamo e so che cosa state pensando ovvero avevo detto che avrei parlato degli animali più carini del mondo ne sono consapevole ma oggi voglio cogliere la palla al balzo per parlarvi di una festività primaverile la festività per eccellenza ovvero la pasqua cominciamo subito parlando di una piccola distinzione ovvero la parola italiana deriva dall'ebraico pesac e significa passaggio ovviamente per i cristiani si riferisce alla resurrezione di gesù quindi il passaggio dalla morte alla vita mentre nella tradizione ebraica fa riferimento al passaggio di mosè nel mar rosso ma sempre di passaggio si tratta mentre invece la parola inglese deriva dal nome di una divinità germanica che chiamata ostara anche detta eastre comunque si assomiglia diciamo di più alla digitura inglese easter ovvero la protettrice tra le altre cose delle uova e dei conigli quindi ecco come mai questi due elementi sono entrati a far parte di questa festività un aspetto però che rende la pasqua una festività abbastanza interessante è il fatto che se ci pensiamo la data in cui si festeggia cambia ad anno ad anno questo perché la pasqua cristiana si fissa in base al calendario lunare e nello specifico cade la prima domenica dopo la prima luna piena dell'equinozio di primavera un ragionamento abbastanza complicato ma se facciamo un rapido calcolo possiamo ottenere che può cadere in un arco di tempo tra il 22 di marzo e il 25 di aprile di ogni anno quest'anno appunto abbiamo festeggiato la pasqua il 4 aprile essendoci stata la luna piena domenica 28 marzo poi parlando invece degli elementi più caratteristici le prime uova di cioccolato iniziano a comparire all'inizio del settecento quando il re sole conosciuto come luigi quattordicesimo commissiona al suo cioccolatie di corte un nuovo di crema al cacao ma la tradizione di regalare le uova a pasqua risale addirittura al medioevo senza tra l'altro considerare che l'uovo ha un grande valore simbolico fin dall'antichità e tra l'altro se vi può interessare c'è anche un concorso per l'uovo di pasqua più grande del mondo e da dieci anni pensate il primato è tutto italiano è stato realizzato da un'azienda della provincia di cremona con un uovo alto bene 10 metri e 39 per 7,2 tonnellate di dolcezza insomma una sorta di vera e opera architettonica e il personaggio invece del coniglietto non è molto diffuso qui da noi in effetti ma rappresenta diciamo la versione pasquale di babbo natale in quanto secondo la tradizione nasconde le uova per i bambini e il giorno di pasqua questi devono trovarle organizzando una sorta di caccia al tesoro quindi un'usanza abbastanza interessante ma parlando prettamente di usanze e in particolare di cibo che come sapete mi sta molto a cuore in italia è diffusa la tradizione di fare la colazione di pasqua con una composizione che varia da regione a regione dalla classica colomba a elaborati miscugli di dolce salato in cui non mancano salumi uova carciofi pizza al formaggio poi fatemi sapere chi di voi mangia la pizza al formaggio che facciamo due chiacchiere e ricette tipiche come la pastiera napoletana quindi quel dolce a base di pasta frolla la crema di grano la ricotta dei canditi il casa tiello che è la tipica torta rustica ripiena le casa dinas con la variante pardulas i dolcetti sardi chiaramente con il ripieno al formaggio o ricotta a seconda dei casi aromatizzati al limone esiste però anche carissimi amici una tradizione specifica di decorare proprio le uova qui in italia è più una sorta di gioco più per i bambini ma noi rispettiamo anche se siete adulti e fate questa decorazione nei paesi slavi piuttosto è considerata una vera e propria forma d'arte si chiama pisanka se vi può interessare fate qualche ricerca online con tanto di diverse correnti e stili caratteristici quindi e infine un ultimo dettaglio non troppo trascurabile che forse non riguarda proprio la festività in sé ma riguarda comunque la parola easter egg che se masticate l'inglese se siete pratici di questa lingua tradotto significa appunto uova di pasqua ma si usa in un ambito al di fuori della festività in sé infatti dovete sapere che si tratta del modo in cui nel mondo dell'informatica in generale vengono definiti alcuni scherzetti innocui nascosti dagli sviluppatori all'interno delle loro creazioni quindi parliamo di software parliamo di videogiochi e quindi rappresentano una sorta di firma del creatore e poi sta agli utenti il divertimento di andarli a cercare proprio come una vera e propria caccia all'uovo di pasqua come vi dicevo prima per i bambini tra l'altro gli esempi che ho voluto riportarvi google chrome quando la connessione internet è assente possiamo fare il mini gioco del dinosauro che salta i cactus non so se ci avete mai provato oppure pensate che una versione di microsoft excel dei fini anni 90 permetteva di giocare a un gioco molto simile a space invaders il fantastico videogioco classico degli anni 70 in cui bisogna sparare alle navicelle spaziali e con questo carissimi amici voglio concludere la puntata di oggi spero vi sia piaciuta come al solito grazie per il sostegno vi invito chiaramente a iscrivervi al canale a attivare la campanella per le notifiche se avete piacere potete anche seguirmi su instagram sulla pagina ufficiale della radio senza nome il format in cui ogni venerdì alle 17 porto musica e intrattenimento di vario tipo che tra parentesi da poco ha anche festeggiato il primo anniversario di trasmissione ma comunque il nostro appuntamento è rimandato alla prossima puntata di varie ed eventuali sempre qui su idm tv alla prossima da parte di gioia anche detto reginaldo veterini ciao amici